Per quanto riguarda Prisma, il fatto che poi la Cassazione abbia sostanzialmente sposato la tesi della Juventus con gli atti che vanno a Roma è una buona notizia per il club bianconero stesso perché si riparte e al tempo stesso si allargano i tempi. Poi vedremo quale sarà tutto l'iter successivo ma la notizia che è arrivata ieri è importante, non va minimizzata, non va sottovalutata, non va insabbiata, insomma credo che abbiate capito il senso delle mie parole. Però per quanto riguarda Prisma e questa mossa della Cassazione ci arriviamo domani dove spero di fare un contenuto ad hoc e quindi è inutile fare un minestrone con più cose. C'è un aspetto che mi ha colpito tanto delle ultime ore mercatari della Juve ed è un retroscena che è emerso direttamente da Relevo, il portale spagnolo che sta avendo grandissimo successo perché è pregno di professionisti di livello. Tra tutti c'è l'amico Matteo Moretto che è diventato davvero devastante, affidabilissimo e comunque Relevo ha raccontato di come la Juventus negli ultimi giorni barra ora della sessione 2023, della sessione estiva, abbia provato a informarsi concretamente su Suso, il giocatore del Sevilla che tra l'altro ben conosciamo perché ha regalato un dispiacere mica da ridere ai tifosi della Juventus in occasione della semifinale di ritorno di Europa League, proprio in quel di Sevilla. Anche la mela, quindi due giocatori che hanno conosciuto la Serie A che hanno regalato un grossissimo dispiacere. Perché Relevo racconta di questo retroscena? Fa una figura, una ricostruzione totalmente fedele in quanto la Juventus, lo sappiamo, ha cercato le sue condizioni Mimmo Belardi, poi si è incrinato ben più di qualcosa con il Sassuolo e la Juve non è riuscita a prendere questo calciatore che tra l'altro il club nero-verde ha sempre valutato attorno ai 30 milioni, cifra a cui non sarebbe mai arrivata nella vita. La Juve che ragionava su un prestito inizialmente biennale, poi un prestito annuale condizionato magari a un piazzamento Champions, insomma sono stati fatti dei ragionamenti che poi comunque non hanno sortito gli effetti sperati e come ben sappiamo Belardi è rimasto quantomeno in questa sessione al Sassuolo e a rientro ha fatto anche doppietta, quindi un giocatore che a livello di Serie A non si discute. E quindi secondo la ricostruzione dei colleghi spagnoli, la Juventus non riuscendo ad arrivare a Belardi, in quella zona del campo ha cercato un'occasione dell'ultima ora riconducibile a Suso che sempre stando ai colleghi iberici sarebbe tornato più che volentieri in Italia, lui che ha avuto più esperienze, tra cui quella più rappresentativa sicuramente tra le file del Milan. Parere personale, meglio che Suso non sia arrivato alla Juve, perché sarebbe stato davvero secondo me un riempitivo, poi è chiaro che le sue caratteristiche magari avrebbero consentito ad Allegri l'occorrenza di sposare altri scenari, alle volte magari passare altri denti offensivo, proprio a gara in corso, fare quello che Suso ogni tanto fa, spaccare le partite, lui che ha questa giocata classica, rientrare sul mancino e poi cercare il secondo palo. Quindi diciamo che a livello di logica non mi sorprende più di tanto che la Juventus abbia sondato più profili, oltre a Belardi, perché poi deve avere un piano A, un piano B, un piano C e quant'altro. Massuso in sé è un calciatore che onestamente non mi scalda, non mi avrebbe scaldato e quando emergono questi retroscena, quando escono questi nomi, quando ci sono queste ricostruzioni, che molte volte poi appartengono anche alla verità, certe volte i nomi possono sfociare in sondaggi embrionali che non vanno avanti e quant'altro, ma altre volte ci sono delle piste che rimangono segrete, che magari vengono portate avanti e che non sfociano nella stretta di mano. Magari Suso rappresenta questa seconda ipotesi, però alla fine della fiera più passano i giorni e più sono convinto che la Juventus, non avendo l'opportunità di spendere e non avendo completato cessioni eclatanti, abbia fatto bene a rimanere così. Perché se non puoi migliorare sensibilmente l'organico con gli obiettivi primari e con la moneta, tra virgolette è suonante, perché poi lo dimostra anche il primo ciclo di Andrea Agnelli, cioè le migliori cose vengono fatte con le idee, con la lungimiranza, con la tempestività, battendo i competitor, cioè si può spendere poco e costruire ottime squadre, si può spendere tanto, come è accaduto nella seconda parte dell'era Andrea Agnelli, la parte finale, e invece proporre una regressione qualitativa, tecnica, attitudinale anche. Quindi non sempre spendere è sinonimo di rinforzarsi, ma in generale in questa sessione non si poteva ben che minimamente sognare, lo avevamo ampiamente compreso, ma il nome di Suso mi ha colpito. Il nome di Suso davvero mi ha colpito perché sono quei giocatori a cui non pensi prima che inizi il mercato, poi è chiaro che Cammin facendo, trovando delle difficoltà, degli ostacoli lungo il percorso, devi scogitare qualcosa di differente. Non dimentichiamoci che il Sevilla ha sondato anche Moise Ken in prestito, ma la Juve, ve l'ho sempre detto, per Ken avrebbe valutato un'offerta attorno ai 35 milioni, magari anche prestito con obbligo, ma che poi garantisse un certo tipo di esborso. E siccome questa offerta non è arrivata, né dal Fula, né dal Siviglia, né dal Milan, la Juve ha deciso legittimamente di puntare su questo ragazzo, che vedremo che tipo di minutaggio avrà e soprattutto quale sarà in primis il suo comportamento, perché è fondamentale che questa possa essere anche a livello comportamentale la stagione di Ken, cioè arrivato a 23 anni, bisogna sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, voci, multe, ritardi, basta, basta. Quando si arriva a 23 anni bisogna avere la maturità professionale e non solo per poter fare un certo tipo di tragitto. Comunque questo è, per chi se lo fosse perso sono curioso di sapere il vostro parere su questa voce, se la trovate fondata, se invece pensate che sia da associare alle classiche bufale di mercato, ma non penso assolutamente che sia così, perché ho una grande stima di rilevo, che lavora molto bene e soprattutto nelle dinamiche spagnole aprimeggiano. Quindi evidentemente se è giunta loro questa voce, perché l'hanno verificata, è perché un barlume di verità quantomeno c'è. Poi che le trattative non vadano in porto, le trattative non le conducono i giornalisti, questo lo dico sempre, perché sembra quasi che siano i media a portare avanti o meno le operazioni. Alle volte possono esasperarle o enfatezzarle, però non le conducono i giornalisti. Le operazioni di mercato, questo retroscena, sondaggio suso, embrionale, non è andato in porto, ovviamente, lo sappiamo, atto poi eventualmente a costruire un piano B, un piano B a Mimo Berardi, che è rimasto ancora una volta al Sassuolo. Commentate!